Ecco abbiamo avuto il piacere di avere la presidenza della messa di Monsignor Guido Marini questa sera qui in Santuario e adesso chiediamo a lui di dare un messaggio, anche di impartire la sua benedizione per tutti quelli che accompagnano questo Santuario, che seguono questo Santuario che è il Santuario e il Centro Internazionale di Schönstatt a Roma. E' stata una grande gioia essere qui oggi, celebrare la messa e visitare questo Santuario della Madonna di Schönstatt. La gioia è anche più grande perché alcuni fratelli e sorelle hanno fatto la loro alleanza d'amore e quindi hanno vissuto un momento importante della loro vita di fede. Ecco ringrazio il Signore che mi ha dato questa opportunità di vivere un momento tanto bello e significativo. E aggiungo che la provvidenza mi porta qui, verso la fine del mese di maggio, il mese dedicato alla Madonna e questo mi ha dato anche l'opportunità e l'occasione di rinnovare il mio amore e il mio affetto a Maria visitando questo bel Santuario. Ecco con la benedizione raggiungo veramente tutti quelli che in questo momento possono entrare in contatto ecco con il Santuario per via di questo mezzo di comunicazione e chiedo per tutti al Signore per l'intercessione di Maria che la vita di fede possa essere una vita vissuta secondo una misura alta come diceva San Giovanni Paolo II, ovvero secondo la misura della santità perché come diceva un autore famoso ci si accorge via via che si va avanti nella vita che c'è solo un'unica tristezza vera che è quella di non essere santi. Ecco la Madonna ci aiuti a percorrere con audacia, coraggio, gioia questo cammino della santità perché a questa il Signore ci chiama, questa è la nostra vocazione e Maria a modello di santità ci aiuti, ci sostenga, ci sia vicina. che il Signore sia con voi, vi benedica di onnipotente, padre e figlio e spirito santo. Con la benedizione un caro saluto e un abbraccio a tutti quanti.